Qualità della vita, il rapporto di Italia Oggi e Università La Sapienza, Caltanissetta terz'ultima, Siracusa penultima, Crotone ultima, la prima provincia siciliana e Ragusa. Sorella Sanità 2, tornano in Libertà Vancheri e Bonanno, il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto il ricorso dei difensori. San Cataldo, tornano liberi quattro indagati per rapina a un'agenzia di viaggi. Riesi, omicidio fiandaca, la procura nissana chiede quattro ergastoli. Bentrovati, Qualità della vita, Caltanissetta è terz'ultima nella graduatoria nazionale del rapporto di Italia Oggi e Università La Sapienza. Ieri è uscita la classifica per la qualità della vita. Caltanissetta dal 101esimo posto è passata al 105esimo. La miglior provincia siciliana per qualità della vita è Ragusa, che però è all'84esimo posto, precedendo Trapani al 93esimo, Messina al 96esimo, Enna e Palermo al 97esimo e 98esimo, Catania al 102esima e Agrigento la segue, quindi Caltanissetta è terz'ultima, penultima è Siracusa, peggio solo Crotone in Calabria, che è ultima al 107esimo posto. Lo sostiene la classifica annuale sulla qualità della vita, stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco Roberto Gambino e di alcuni cittadini nisseni. La classifica ci porta alla realtà, la realtà è quella del 105esimo posto, le belle intera provincia di Caltanissetta e sicuramente questa è una cosa che ci deve far riflettere tutti. La mia riflessione parte dal mio anno di insediamento che eravamo centosettesimi, quindi ultimi, dopo due mesi dalla mia elezione eravamo centosettesimi, però questo non vuol dire nulla, noi stiamo lavorando alla grande, stiamo lavorando nel campo delle infrastrutture, della sanità e andando a cercare di risolvere i problemi atavici che ha questa provincia. Che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, anzi forse meraviglia perché non siamo all'ultimo gradino di questa scala. Basta farsi un giro per la città, soprattutto per il centro storico e capire cos'è questa che era forse una volta una città. La stiamo riduggendo a un paese sotto, forse ancora peggio e ogni giorno di più si vede il declino assoluto. Basta chiedere ai giovani e soprattutto loro sapranno dire cosa è questa città. Gloriosa e stupenda, laboriosa e bella. La vivibilità, ragazzi se perdiamo il centro storico la città può chiudere, i cittadini non esistono più, siamo tutti persone senza identità. E purtroppo Caltanissetta come vivibilità non è che siamo al top, qua francamente manca tutto. Non abbiamo né strade, né lavoro, né commercio, non c'è più niente. Se tu vedi le strade sono tutte deserte, i negozi tutti chiusi, è una cosa veramente inverosimile. Siamo quasi, sembra una città deserta. La qualità di vita e gli elementi che la determinano, al di là dei criteri che sono stati usati per la definizione di questa classifica su cui magari si potrà contestare qualche elemento, qualche criterio, però il resto è il fatto che la qualità della vita della città è assolutamente indescrivibilmente bassa, in particolare quella del centro storico. Questura di Caltanissetta, di vieto di accedere a manifestazioni sportive per nove tifosi, sono ritenuti responsabili dei disordini in occasione di una partita dello scorso anno tra Gela e Vittoria. Il questore di Caltanissetta ha emesso nove provvedimenti d'aspo nei confronti di alcuni tifosi responsabili dei disordini avvenuti nell'ottobre dello scorso anno in occasione della partita di calcio Gela e Vittoria. I soggetti sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto di mazze e oggetti contundenti. La Polizia Anticrimine della questura di Caltanissetta inoltre ha emesso provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive nei confronti di nove gelesi di età compresa tra i 22 e i 30 anni. Quest'ultimi nell'ottobre dello scorso anno, in occasione dell'incontro di calcio Nuova Città di Gela, Calcio Club Vittoria, travisati da casche e passamontagne, armati con mazze da baseball, bastoni e oggetti contundenti, furono visti nelle vie adiacenti lo stadio Vincenzo Presti, dove avevano organizzato un'imboscata alla tifoseria ospite. Nell'occasione furono lanciate pietro controllato bus della squadra ospite che al termine dell'incontro fu scortata dalla Polizia di Stato fino a destinazione. Gli agenti, inoltre, grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie adiacenti lo stadio, hanno identificato i responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Gela. Così è scattato il DASPO per sette persone che non potranno recarsi allo stadio per i prossimi due anni. Due di esse, invece, colpiti in passato allo stesso provvedimento, non potranno farlo per i prossimi cinque anni. Incidente stradale sulla Statale 640 nelle vicinanze dello svincolo per San Cataldo. Diversi feriti. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina sull'autostrada che collega Grigento a Caltanissetta. In mattinata, infatti, cinque auto si sono scontrate sull'autostrada 640 che collega al capologo Nisseno alla città dei Templi, all'altezza della Galleria Papazzo, nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Nell'incidente sarebbero rimaste ferite tre persone che sono state tempestivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del capologo Nisseno e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti, uno in codice giallo e due in codice verde, all'ospedale Sant'Elia. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Indaga la Polizia. Diamo luce alla Sicilia. Manifestazione a Palermo per dire no al caro Bollette. È partita da Piazza Croci a Palermo la manifestazione. Diamo luce alla città nata per dire no al caro Bollette. Da Caltanissetta presente una cospigua rappresentanza di lavoratori e organizzazioni sindacali tra cui CNA che ha promosso sul territorio l'iniziativa appoggiata da categorie ed istituzioni per dare voce alle istanze di chi è in difficoltà. Così il lungo corteo di protesta ha attraversato Palermo. Dice il presidente di CNA, Caltanissetta, Manduca ancora la crisi a Caltanissetta e Gela non è arrivata ma ce l'aspettiamo. Vogliamo e desideriamo che il governo ponga una certa riflessione su quella che è la situazione economica di questa nostra provincia. Dice il segretario Gallino di CNA questa di oggi è la giusta risposta che le associazioni di categoria stanno dando al governo regionale nazionale ponendo dei problemi seri, dando delle proposte che possono servire a dare ossigeno alle imprese che in questo momento sono in crisi profondissima. Senza questo aiuto penso che a Natale arriveranno ad essere metà le imprese presenti nel nostro territorio. Il 2022 per le imprese è stato l'anno degli aumenti del costo dell'energia che in alcuni casi ha superato il 300% e si attendono ulteriori rincari. Gli effetti per molte aziende in Sicilia potrebbero condurre al lockdown produttivo ovvero a un fermo delle attività. Mentre l'inflazione galoppa il governo nazionale ancora studia come contenere rincari a scendere in piazza vicino ad imprenditori e commercianti e anche a pensionati, famiglie e lavoratori di tutta la Sicilia ci sono anche i sindaci. Ed è il sindaco di Gambino a dichiarare siamo qui alla manifestazione a Palermo per il sostegno alle imprese e alle famiglie e a sostegno pure delle amministrazioni comunali. È il problema per cui stiamo sbattendo i pugni sul tavolo perché ci siano delle contribuzioni che aiutino e devono aiutare sicuramente le imprese in tutto questo mondo difficilissimo. Anche i comuni hanno la necessità di avere degli aiuti perché economicamente i bilanci dei comuni siciliani soffriranno tantissimo. Molti comuni più di 300 non hanno approvato i bilanci di previsione. La nostra città lo ha fatto ma con grandissime difficoltà. Noi siamo qui a protestare e a chiedere aiuto dallo Stato e dalla Regione. Contenimento del caro energia alla proposta di sei consiglieri comunali a San Cataldo. Hanno presentato una proposta di approvazione di ordine del giorno mirata a fornire mandato all'amministrazione comunale di richiedere misure nazionali ed europee per il contenimento del caro energia e dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas per famiglie, imprese, enti locali. I consiglieri comunali di San Cataldo, Gianpiero Modaffari, Vincenzo Naro, Bartolo Mangione, Rosario Aprile, Salvatore Pirrello e Rosario Sorce. Una proposta contenente diversi punti dalle misure per le famiglie alla campagna di informazione sull'uso razionale dell'energia e che sarebbe stata inoltrata all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale perché possa essere trattata in occasione del primo Consiglio Comunale utile. Abbiamo ritenuto opportuno impegnare l'amministrazione comunale con un opportuno ordine il giorno che porteremo, abbiamo portato in Consiglio Comunale, che chiederemo l'approvazione di tutto il Consiglio Comunale con il quale si chiede all'amministrazione comunale di interloquire col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Presidente della Regione affinché si trovano delle soluzioni per cercare dei modi per poter ridurre questo effetto drammatico del costo dell'energia. In particolare chiediamo all'amministrazione comunale che si faccia carico di una interlocuzione con la società di distribuzione energetica del gas metano allo scopo di mettere in atto opportune forme di rateizzazione di bollette annualmente non pagate, così come chiediamo che l'amministrazione comunale si faccia parte attiva ai confronti del Governo nazionale e regionale per trovare dei bonus energia da poter distribuire alle famiglie più bisognose che hanno degli sei inferiori a 30.000 euro, così come ad esempio poter ridurre l'IVA al 4% sul pellet o altre tipologie di risorse energetiche. Chiediamo altresì di introdurre una normativa che preveda una semplificazione nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di fondi di energia rinnovabile. Insomma chiediamo che queste difficoltà dei nostri concittadini siano portate all'attenzione del Governo nazionale e regionale. A Caltanistezza il consigliere comunale Oscar Raiello interviene sui tempi di una visita cardiologica all'ospedale Sant'Elia. 12 mesi per una visita cardiologica al Sant'Elia a denunciare la vicenda della struttura ospedaliera nissena è il capogruppo della Lega Oscar Raiello. Facendomi portavoce di alcuni cittadini devo pubblicamente denunciare l'ennesimo caso di malasanità a Caltanistezza. Lo faccio pubblicamente ma l'ho già fatto nelle sedi istituzionali opportune. Una persona ha prenotato a marzo del 2022 tramite il CUP di Via Malta una visita cardiologica fissata inizialmente ad ottobre del 2022. Ebbene ad ottobre senza avvisare quella persona la visita sarà spostata a maggio del 2023 quindi prenotazione marzo 2022 visita programmata a maggio 2023 e non sappiamo se dopo 14 mesi quella visita si potrà effettuare. È una vergogna, è un caso di malasanità, spero che non accada più e coinvolgerò le istituzioni competenti. Proprio sul fatto abbiamo contattato i vertici ASP per una replica ma al momento non abbiamo ancora ricevuto risposta. Sorella Sanità 2 tornano in libertà Vancheri e Bonanno. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto il ricorso dei difensori. Tornano liberi il funzionario dell'ASP di Enna Giovanni Luca Vancheri, 53 anni, e Giuseppe Bonanno, 45 anni, referente di una società impegnata nel settore delle apparecchiature mediche. Si tratta dei due nisseni coinvolti nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo ribattezzata Sorella Sanità 2 che ha fatto luce su un presunto giro di tangenti legata ad affidamenti di lavori e forniture di apparecchiature elettromedicali in ambito sanitario. Vancheri era detenuto in carcere mentre Bonanno si trovava agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori Silvano Damiani e Giuseppe Panepinto i quali avevano sostenuto la mancanza di elementi tali da giustificare l'applicazione delle misure cautelari. I giudici, condividendo la tesi della difesa, hanno anche stabilito che la competenza della vicenda sulla posizione dei due nisseni è del Tribunale di Enna e non di quello di Palermo. Dieci in totale gli indagati a seguito del blitz, accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I casi finiti sotto la lente di ingrandimento dei magistrati e della Guardia di Finanza riguardano il pagamento di una tangente da 700 mila euro per la gestione del sistema informativo dell'ASP di Palermo, un appalto da oltre 12 milioni di euro. Una seconda tangente riguarda due gare, gestite dall'ASP di Palermo e dalla regione Sicilia per le forniture di apparecchiature elettromedicali e il terzo caso, un'altra tangente, relativa alla gara per affidare i servizi di pulizia in ambito sanitario per un appalto di 227 milioni e 600 mila euro. San Cataldo tornano liberi, quattro indagati per rapina a un'agenzia di viaggi. Niente più arresti domiciliari, ma solo obbligo di firma per quattro dei cinque indagati ritenuti responsabili di avere commesso una rapina all'interno di un'agenzia di viaggi di San Cataldo. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati difensori Gianluca Amico e Sergio Messina. Il quinto indagato resta invece agli arresti domiciliari, misura che gli era stata concessa in precedenza, dopo che al momento dell'arresto era stato condotto in carcere. Il fatto risale al 19 agosto scorso e alla base di tutto ci sarebbe una presunta condotta inadempiente da parte dell'agenzia. I cinque indagati si erano infatti presentati all'interno dell'esercizio commerciale per chiedere la restituzione della somma pagata per una crociera, ma dopo essersi sentiti rispondere da una delle titolari che non c'erano con tanti in cassa, la situazione è degenerata. Secondo il racconto dei titolari e di una dipendente, i cinque non avevano risparmiato minacce al loro indirizzo e avevano portato via un ventilatore, un frigorifero, una televisione, un computer fisso con il relativo case, una stampante, tre olorogichea e persino una decina di modellini di navi da crociera. Il tutto per un valore di circa 3.000 euro. Riesi omicidio Fiandaca. La procura nissena chiede quattro ergastoli. Per la procura nissena vanno condannati all'ergastolo tutti e quattro gli imputati per l'omicidio di Giuseppe Fiandaca, ucciso a colpi di fucile il 13 febbraio 2018 nelle campagne intorno a Riesi. Il carcere a vite è stato chiesto dal PM Davide Spina per Pino Bartoli, 35 anni, Michael Stephen Castorina, 33 anni, Gaetano Di Martino, 39 anni, e Giuseppe Antonio Santino, detto Lucignolo, 34 anni, adesso imputati davanti alla corte d'assise di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'omicidio vi sarebbero dei contrasti per questioni di droga, ma nel corso del dibattimento sono state esplorate anche altre piste, compresa quella passionale. Alle richieste di condanna del PM Spina si sono associati i legali di parte civile della famiglia Fiandaca, gli avvocati Giovanni Pace e Walter Tesauro, che hanno sollecitato il pagamento di una professionale oltre al risarcimento dei danni. Dalla prossima udienza prenderanno il via le arringhe degli avvocati difensori Vincenzo Vitello, Adriana Vella, Michele Ambra, Giovanni Maggio, Angelo Asaro e Ivan Truppia. Processo Gallo d'Oro, con danne ridotte in appello per sei imputati. La pena più alta, sei anni e due mesi. Pene ridotte in appello per sei persone imputate nel processo scaturito dall'inchiesta antimafia Gallo d'Oro dei Carabinieri, con cui venne fatta luce sull'attività delle cosche mafiose del Vallone e sui rapporti di queste ultime con la mafia grigentina, mentre per altri otto i giudici di secondo grado hanno emesso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Associazione mafiosa, estorsione e singoli episodi di spaccio le accuse contestate a vario titolo agli imputati. La pena più alta, sei anni e due mesi, è stata inflitta a Francesco Pollara, a 42 anni, originario di Palermo. Ridotta da 13 anni e due mesi, a 5 anni e 6 mesi, la pena per Claudio Rino Di Leo, 61 anni, considerato dagli inquirenti il reggente della famiglia mafiosa di Campofranco. Inflitti due anni e dieci mesi, rispetto ai sei anni e otto mesi del primo grado, a Domenico Avarello, 41 anni, di Canicattì. Condannato a due anni e un mese, rispetto ai tre anni e dieci mesi del primo grado, Filippo Cacciatore, 59 anni, di Cammarata. Pena di un anno e due mesi per Vincenzo Scalzo, 48 anni, di San Cataldo, che in primo grado si era visto infliggere due anni e otto mesi. E infine, un anno e due mesi, la pena per Giovanni Siragusa, 39 anni, di San Cataldo, rispetto alla condanna di un anno e sei mesi del primo grado. Controlli dei carabinieri nel Nisseno. Nel fine settimana, ritirate due patenti di guida. Continuano senza sosta i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri di Caltanissetta, anche con l'uso dell'etilometro. Nel fine settimana, come recita la nota, sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 37 veicoli e 59 persone. Elevate nuove sanzioni amministrative relative a infrazioni al codice della strada. Sottoposto a fermo amministrativo un ciclomotore, ritirate due patenti di guida e sequestrate amministrativamente due auto. In particolare a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, i militari dell'attenenza hanno deferito un 47enne residente a Vittoria, nel Ragusano, che, fermato a bordo della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico. Nel capologo Nisseno, i carabinieri della sezione radiomobile hanno effettuato cinque perquisizioni personali, all'esito delle quali sono stati trovati sette grammi di hashish e segnalato alla prefettura un sedicenne come l'assuntore di sostanze stupefacenti. La spesa sospesa a Caltanissetta su iniziativa della Coldiretti. In questi tempi, così critici e difficili, alla Coldiretti periodicamente si svolge anche la spesa sospesa, dove tutti i clienti, se vogliono, possono acquistare dei prodotti da destinare alla solidarietà. La Coldiretti collabora con menze per famiglie bisognose come la Casa di Gerico, Caritas e gruppi di famiglie che hanno accolto i rifugiati ucraini. Oltre tutto ciò si svolge anche Campagna Amica, una fondazione che nasce nel 2008, per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell'agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell'ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell'equità, dell'accesso al cibo a un giusto prezzo, dell'aggregazione sociale e del lavoro. Dal 4 di novembre, a seguire per tutti i venerdì e i sabato, al mercato di Via Fragerratana, insieme con i volontari vincenziani, parte l'iniziativa Prendi un libro e lascia un libro, indirizzata ai consumatori nisseni per favorire la lettura e unire la cultura del buon cibo a quello della lettura. Ci piace anche concepire il mercato di Campagna Amica come un contenitore di iniziative culturali o anche di sociali, perché qui abbiamo ospitato nutrizionisti oppure donatori di sangue, iniziative benefiche, e quindi diciamo che la Coldiretti apre le porte ai consumatori che oltre a comprare del cibo possono apprendere su quelle che sono le nostre iniziative. Una fra tutte importantissima ci sarà a Palermo, dal 2 al 4 dicembre, un villaggio Coldiretti dove la maggior parte delle nostre aziende sparano i loro prodotti a un pubblico regionale. Gli appuntamenti nella provincia di Caltanissetta con i mercati Campagna Amica sono quattro e sono il mercoledì mattina in Viale Lazio a Caltanissetta, giovedì mattina a San Cataldo e il venerdì e il sabato al mercato a coperto dove siamo in questo momento. All'interno dei nostri mercati troverete un paniere ben assortito di prodotti, sono tutti prodotti freschi, molto probabilmente raccolti il giorno prima. Gli prodotti spaziano dall'ortofrutta ai formaggi caprini o vini, all'olio evo, i GP e doc. Inoltre troverete pure uova ricotta fresca, mandorle sgusciate e pelate. La patologia demenziale nella società di oggi, incontro formativo organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltanissetta. Sabato mattina, presso i locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuto un incontro formativo per parlare della patologia demenziale nella società di oggi. Per patologia demenziale si intende la degenerazione progressiva del sistema nervoso centrale, che si manifesta da un punto di vista clinico con una serie di disturbi cognitivi, della memoria e della capacità di pensiero, tra i quali una ridotta capacità di memoria a breve e lungo termine. La demenza colpisce principalmente la memoria, mentre il delirio interessa principalmente l'attenzione. La demenza inizia solitamente gradualmente e non ha un punto di inizio definito. Il delirio compare improvvisamente e spesso ha un punto di inizio. Sono intervenuti il dottore Pio Capraro, lo psichiatra Fabio Di Pietra, la psicologa Angela Caruso, l'avvocato Rossella Giannone e il magistrato Giovanni Battista Tona. La demenza senile è purtroppo un argomento molto importante nei nostri tempi perché a parte il costo sociale della persona ammalata è più che altro la sofferenza dell'individuo perché rientra nella anormalità. È una persona completamente estranea a determinati contesti sociali ed è una sofferenza abbastanza grave. Oggi cercheremo di capire la motivazione di questa patologia abbastanza grave e eventualmente le vie di riabilitazione è la soluzione completa. Il dottore Capraro, il nostro socio, ha ritenuto interessante in dire questo convegno per spiegare la problematica sulla demenza senile che purtroppo comincia a diventare una piaga non indifferente per la società. I relatori riusciranno a far capire quali sono le problematiche che portano a questa malattia per poter quantomeno anzitempo prevenire se c'è da prevenire per evitare strascichi nella gestione del paziente. A livello psichiatrico soprattutto ci si ritrova a fronteggiare le manifestazioni comportamentali di irritabilità, di requietezza, l'aggressività le angosce, le paure di essere derubati o di essere abbandonati e le turbe dell'umore la depressione che spesso si associa al deterioramento per cui i disturbi del sonno è sostanzialmente tutto un corteo sintomatologico correlato e secondario che può essere efficacemente fronteggiato e corretto mentre sul deterioramento mentale possiamo poco possiamo cercare un po' di rallentarlo di prevenire in alcuni casi sulle manifestazioni di rilevanza psichiatrica correlate alla demenza possiamo intervenire efficacemente con gradualità tenendo conto dell'età delle patologie associate però si riesce a rendere più vivibile più affrontabile questo sofferto percorso di vita i cento anni del liceo scientifico a Caltanissetta diversi appuntamenti in programma per il traguardo raggiunto sono passati già cento anni dalla nascita del liceo scientifico nissene così la scuola si prepara a celebrare questo anniversario che ricade nel 2023 cominceranno però già nelle prossime settimane i primi appuntamenti per ricordare questa ricorrenza è la storia del liceo volta il filo conduttore delle iniziative in programma nei prossimi mesi sarà la dicotomia tra passato e futuro dunque preservare la memoria ad esempio con una mostra che raccoglie vecchi documenti e immagini della scuola ma allo stesso tempo proiettarsi in avanti verso il mondo del lavoro e il confronto con le esperienze professionali di chi ha frequentato il liceo come nel caso dell'appuntamento del 24 novembre in questo mondo del 24 giocato al tema della scienza e il senso e la bellezza della scienza noi avremo tre contributi dei nostri ex allievi che sono affermati professionalmente in campi importanti parliamo della fisica con la professoressa Guiria che insegna a Catania la professoressa Antinia che insegna l'università straniera matematica e poi dovremmo avere un contributo medico scientifico anche qui del nostro ex allievo che si è affermato professionalmente a livelli importanti questo per dare un po' il senso che la scuola per quello che l'è stata e se è stata per quello che continua ad essere è una scuola che ti prepara per fare in modo che tu possa realizzarti personalmente e professionalmente ad un certo livello questo è un aspetto molto importante e da questo punto di vista sempre secondo questo doppio canale doppio versante la memoria e il futuro prossimo ricorderemo alcuni nostri insegnanti un incontro che dovrebbe essere svolto a dicembre in particolare parlo del professore Lapiana e del professore Mangiavillano anche qui con contributi e docenti di questa scuola sempre secondo questa linea che combina le risorse passate e quelle presenti e poi stiamo lavorando per un torneo sportivo promosso dal professor Terrane che è il nostro insegnante molto attivo nel campo dello sport di cittadino qui a Caltanissetta è un torneo sportivo per quanto riguarda in particolare due specialità che sono la pallavola e il basket in cui la scuola ha avuto una tradizione importante con delle affermazioni significative e poi tra le altre cose dovrebbe esserci questo momento conclusivo finale di un evento artistico con contributi musicali contributi anche di carattere artistico spettacolare diciamo di spettacolo e con i nostri studenti passati e presenti si pensa anche ad una possibile riscoperta delle vecchie sedi del liceo questa scuola ha avuto tre sedi la prima quella più antica presso il carcere tribunale di Caltanissetta adesso è un locale del comune di Caltanissetta e poi una seconda sede anche questi sono locali pubblici nel comune di San Francesco la terza sede quella più recente dove siamo in questo momento in questi locali e qui dovremmo fare una sorta di viaggio con chi vorrà noi stessi e i cittadini di Caltanissetta per conoscere questi luoghi se sarà possibile fare questa cosa la pagina sportiva Memorial Andaloro massiccia partecipazione all'iniziativa del Vespa Club di Caltanissetta nel piazzale Monsignor Garzia domenica mattina si è tenuta la terza tappa del campionato calabrosiculo di Vespe organizzata dal Vespa Club di Caltanissetta e denominato primo Memorial Lidio Andaloro gli appassionati delle Vespe divisi in categorie si sono sfidati in una gincana una gara all'aperto nella quale i partecipanti hanno percorso un tracciato tortuoso e reso impegnativo dagli ostacoli nel più breve tempo e con il minor numero di penalità possibili noi abbiamo voluto intitolare questa tappa primo Memorial Lidio Andaloro Lidio Andaloro è stato un nostro Vespista nonché facendo parte del direttivo nonché anche cofondatore di questa associazione che è rinata è stata e costituita nel 1957 e poi è stata abbandonata ed è stata ricostituita nel 96 grazie anche a Lidio Andaloro Lidio Andaloro è stato come detto prima dirigente di questa associazione per almeno dalla costituzione ed era anche un campione regionale di Gingana e quindi abbiamo voluto dedicare questo Memorial quindi primo Memorial sperando e sicuramente ce ne saranno altri a seguire a questo nostro Vespista Lidio Andaloro questo è l'ultimo evento del cartellone del settembre Nisseno è stato spostato ad oggi in quanto il 25 di settembre era una giornata elettorale e quindi oggi siamo pronti per assistere a questo primo Memorial in onore di Lidio Andaloro grandissimo appassionato di Vesp e chiaramente molto conosciuto in città come vedete alle mie spalle c'è già il percorso da questa mattina hanno iniziato a montarlo è molto intrigante anche molto diciamo spettacolare nelle sue parti più tardi si svolgerà la gara e poi il pomeriggio le premiazioni Calcio la San Cataldese vince il derby con il Ragusa la Nissa si impone sul campo del Cus Palermo Calcio nel campionato di Serie D la San Cataldese batte il Ragusa al Valentino Mazzola con un risultato perentorio 3 a 0 una partita giocata con il piglio giusto della squadra di Pietro Infantino che conquista altri punti pesanti in chiave salvezza dopo un primo tempo a reti inviolate Verde Amaranto in gol con Baglione sull'1 a 0 il Ragusa non si scuote e poco dopo al diciottesimo ancora Baglione autore di una doppietta trova la via della rete nel finale il Ragusa crolla e al cinquantesimo Guadagnoli firma il tris i risultati della decima giornata Cani cattivi Libonese 0 a 2 Castrovillari Santa Maria 1 a 1 Acireale San Luca 1 a 1 Cittanova Catania 0 a 0 Lamezia Licata 1 a 1 Paternò Locri 1 a 0 San Cataldese Ragusa 3 a 0 Sant'Agata Mariglianese 4 a 0 Realla Versa Trapani rinviata La classifica Catania 28 punti Lamezia 20 Vibonese 19 Realla Versa Sant'Agata e Locri 15 Ragusa 14 Paternò 13 Santa Maria Castrovillari Canicattì Trapani Licata 12 Acireale San Luca 11 San Cataldese 10 Cittanova 5 Mariglianese 3 Nel campionato di eccellenza la Nissa vince sul campo del Cus Palermo Per i palermitani la settima sconfitta della stagione Per i biancoscudati la seconda vittoria consecutiva Dopo il vantaggio dei padroni di casa nei minuti iniziali al sesto con Fofanà i nisseni riescono a riequilibrare il risultato con San Martino L'1 a 1 dura un paio di minuti e a Zara portare in vantaggio la Nissa sull'1 a 2 Morales e compagni non abbassano la guardia e al 42esimo chiudono il match con il terzo gol realizzato da Ortiz domenica al Palmintelli tornerà un altro derby storico quello con l'Enna seconda forza del girone A i risultati della nona giornata Cus Palermo Nissa 1 a 3 Castellammare Oratorio Marineo 2 a 1 Enna Mazzara 1 a 1 Gela Casteldaccia 0 a 0 Profavara Parmon Valle 3 a 0 Don Carlo Leonfortese 1 a 0 Mazzarese Acragas 1 a 1 Resuttana Sciacca 0 a 0 La classifica Acragas 23 Don Carlo Edenna 19 Mazzara Profavara 18 Mazzarese 17 Sciacca 16 Casteldaccia 14 Nissa 11 Castellammare 10 Resuttana Leonfortese 7 Oratorio Marineo Cus Palermo 6 Parmonval 4 Gela 3 Volley Serie B2 Femminile Quarto acuto Stagionale dell'Alba Verde Prima della classe Grazie a un altro 3 a 0 Casalingo L'Alba Verde Caltanissetta consolida la prima posizione in classifica Dopo la trasferta di Gioiosa Ionica è arrivata puntuale la risposta dalla squadra Nissena Pronti via l'Alba Verde è apparsa subito determinata vincendo e dominando il primo set nonostante la condizione fisica non eccelsa di alcune ragazze Pure il secondo parziale dopo un sostanziale equilibrio iniziale ha preso la via di Caltanissetta Il terzo set invece è stato caratterizzato da tanto agonismo con la squadra ospite Mai Doma fino alla gioia finale del 26 a 24 che ha vidimato la terza gioia casalinga di fila dell'Alba Verde La partita a raggi X ha visto la grande prestazione di Alessia Angilletta top scorer con 16 punti di Nicol Ferrarini in doppia cifra e in costante crescita dal punto di vista fisico Più che buona l'interpretazione delle centrali Valeria Lamattina e Nicoletta De Luca è stata anche la prima volta da titolare per Sara Miceli con la spena sempre più verso la forma migliore e Lorena Tilaro presenza preziosa al di là di una fastidiosa forma influenzale che l'ha colpita alla vigilia del match ottime anche le prestazioni di Mila Pruti di Jennifer D'Antoni e di Diana Ferraloro con la sua esperienza sempre a servizio della squadra dopo la quinta giornata di Serie B2 la classifica continua a sorridere dall'Alba Verde che domina da prima della classe il girone M e continua a guardare i prossimi appuntamenti con entusiasmo grazie soprattutto a una costante crescita da parte di tutta la squadra vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà lento avvicinamento di una perturbazione atlantica questa che vediamo nell'immagine alle nostre regioni in particolare a quelle di nord ovest quindi giornata ancora discreta ma con nubi in aumento sulla parte nord occidentale lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità ecco queste prime nubi che arrivano sull'Italia di nord ovest attraversano in parte anche il nord est ma la giornata sarà ancora più che discreta in effetti anche come precipitazioni per il momento poco da segnalare prime goccioline di pioggia in giornata sulla Liguria centrale poi probabilmente verso sera qualche goccia ma si parla proprio di piovigina andrà a interessare anche parte della Lombardia quindi in definitiva giornata nel complesso ancora bella da nord a sud però con qualche nuvole in più al nord a specie diciamo al nord ovest prime gocciole di pioggia in Liguria qualche gocciolina inserata anche in Lombardia come temperature e valori diurni intorno ai 20-22 gradi al centro sud qualcosina in meno a nord e al primo mattino c'è sì sempre bisogno di coprirsi un po' bene ma temperature minime in lieve graduale rialzo per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi nei prossimi giorni consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Al Duomo Via Filippo Paladini Servizio notturno Eufrate Via Filippo Turati